Io avevo utilizzato il mosaico in passato, proprio in questo spazio era stato presentato circa tre anni fa il bagno Alessi che io ho disegnato. In quell'occasione curai l'allestimento e creai cinque casette rivestite all'interno completamente in mosaico. I risultati sono stati molto interessanti per cui ho deciso poi di riproporlo anche sia nella piscina che negli spazi della mia casa. In questo caso abbiamo scelto il mosaico in colore bianco che è un materiale secondo me eccezionale perché ha una grana estremamente sofisticata per cui è una superficie che immediatamente percepisci come omogenea ma poi all'interno c'è tutta una varietà di piccoli riflessi, di rifrazioni, di colori madreperla che lo rendono estremamente prezioso ed interessante. I bagni per la casa abbiamo scelto anche il bianco e invece il colore perché la casa è invece caratterizzata da una scatola, pavimento e muri monocroma, chiara, neutra, per cui i bagni diventano gli elementi di stacco. A me piacerebbe anche una stanza interamente in mosaico dove magari il disegno diventa un protagonista.